Nial Mail, precarietà, iper-sfruttamento e diritti negati. La dura realtà dei lavoratori che consegnano pacchi e posta nelle nostre case. Una situazione davvero grave, sommersa, che USB ha voluto portare alla luce. Siamo con Francesco Marchesi, allora rappresentiamo un po' questa realtà di sfruttamento di diritti negati e le azioni che intendete porre in essere. Sì, circa un mese fa i lavoratori di questa società, della Nial Mail, hanno deciso finalmente di organizzarsi sindacalmente e si sono rivolti all'Unione Sindacale di base. Per iniziare a contrastare la condizione di sfruttamento insopportabile che da dieci anni subiscono, una denuncia dei lavoratori che ha portato a galla una dura realtà fatta di precarietà, di persfruttamento, di negazione dei diritti, realizzata attraverso il solito ricatto occupazionale con una gestione autoritaria del personale e dei lavoratori e attraverso i soliti trucchi a cui ricorrono le aziende che sono solite operare nel sottobosco dell'elusione delle norme. Ecco, questa mattina un presidio proprio dinanzi alla sede di Nial Mail. Sì, siamo qui perché i lavoratori organizzati hanno deciso finalmente di dire basta a queste condizioni di sfruttamento e precarietà, dire basta ai contratti a tempo parziale che servono per camuffare prestazioni a tempo pieno, per dire basta ai contratti a termine rinnovati per anni e senza mai alcuna prospettiva di stabilizzazione attraverso la creazione di società satellite, per dire basta alla condizione che impone loro di consegnare la posta con i propri mezzi privati o, nella migliore delle ipotesi, oppure a piedi, battendo il territorio a piedi, per dire basta ad una gestione che nega i diritti contrattuali, gli istituti, le indennità, il pagamento del supplementare, la consegna delle buste paga, per negare una condizione che è un complesso sistema di negazione dei diritti condito dall'arroganza, dalle velate minacce, dalle provocazioni quotidiane portate avanti dai fiduciari dell'azienda. Ma la cosa paradossale, questo è importante sottolinearlo, è che questa azienda e tutto questo complesso sistema di negazione dei diritti avviene per conto di un'azienda che opera per committenti pubblici, la committenza pubblica, parlo delle amministrazioni pubbliche, delle società a intero capitale pubblico o a partecipazione pubblica, come il Tribunale di Taranto, il Comune di Taranto, l'ACI, l'Acquedotto Pugliese, l'AMAT, la Polizia Locale e da ultima anche poste italiane. Ora, di fronte all'arroganza mostrata da questa società, da questa piccola azienda, nei confronti anche dell'organizzazione sindacale, durante un incontro sindacale hanno negato e respinto al mittente qualunque rivendicazione dei lavoratori, bollandole come infondate o fingendo di non esserne a conoscenza. Di fronte a questo noi diciamo che il tempo è scaduto. Ecco, ma avete cercato di intessere un dialogo, cioè un dialogo nel senso di porre il problema e ricevere eventualmente delle risposte dinanzi a situazioni che voi avete sollevato, cosa c'è stato? Silenzio, chiusura da parte dell'azienda? Direi chiusura o menzogna. Ci abbiamo provato certamente a intessere un dialogo, abbiamo così richiesto un incontro, lo abbiamo ottenuto, abbiamo provato a stabilire una relazione con un'azienda che non conoscevamo. La risposta è stata l'atteggiamento di difensiva dell'azienda che, ripeto, ha bollato come infondate la stragrande maggioranza di rivendicazioni dei lavoratori.